Potente appara ragazzi, qua Waxel, oggi sono da sole e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video E ragazzi questo qua è un video diverso dal solito, diversissimo dal solito Perché ragazzi è il mio primo pack opening su FIFA 14 Perché è il mio primo pack opening? Perché io avevo iniziato la serie sul mio secondo canale Che si chiama Waxel V2, andate a vederla, che si chiama Pack of the Day Dove praticamente aprivo un pacchetto al giorno Però dato che ero veramente sfortunato ma è una cosa veramente tremenda L'avevo stoppata un attimo, ma comunque la riprenderò a breve Poi ragazzi una piccola curiosità, io vi linkavo sempre, appunto vi mettevo sempre diciamo nella parte bassa del mio video Se non sei ancora iscritto clicca qui E mi sono accorto solo ieri che il link che vi mettevo era di un altro canale, non era il mio Una cosa veramente tremenda E tipo quel canale l'aveva avuto 1300 iscritti senza caricare nessun video Quindi è una cosa abbastanza tattica Comunque ragazzi, allora oggi sono qui a presentarvi questo pack opening abbastanza anche speciale Perché siamo nell'happy hour E appunto la EA ha scritto che avrebbe fatto un happy hour che andava dalle 7 alle 8 E io ho detto ma sfruttiamola questa occasione dato che siamo a casa Quindi eccoci qui Come ho fatto saperlo? Ho messo mia piazza alla loro pagina di Facebook E appunto loro l'hanno scritto Allora apriremo questi pacchetti da 35.000 crediti Ne apriremo due E poi finiremo il resto dei crediti credo in altri pacchetti Perché ho vinto il Wager Match da 100k Quindi me lo posso permettere Se vi... un picco... due cose ragazzi Prima di iniziare vi volevo dirla Prima che oggi è mercoledì e come vi ho già detto FIACONI STASH farà l'offerta per i crediti di PS3 Mentre su Xbox l'avrà già fatta O meglio, ovvero basterà il suo prezzo da 8,50 a 7 Quindi se siete interessati a comprare i crediti Io vi consiglio alla grande di prenderli oggi Poi vabbè ovviamente anche negli altri giorni Ma oggi è proprio il giorno speciale E secondariamente vi volevo anche chiedere Se volevate che io mettessi la facecam Anche nei pack opening Perché mi ero scordato di chiederlo Quindi questa volta ho detto Ma dai, per questa volta non facciamolo In questo video lo chiediamo E poi si vedrà Quindi, boh, ci chiedete nei commenti Ovviamente se volete un bel pack opening Con la facecam E poi vi volevo anche dire Che se mi state sentendo abbastanza ambiguo È perché ho la voce abbastanza bassa Comunque 35k E apriamo Apriamo il primo pacchetto ragazzi Allora, io sono solito a schiacciare sempre X Perché ho notato che sono strasfortunato Usti Oscar Mannaggia Chissà quanto vale Oscar Contratto, contratto, contratto Forma fisica Forma fisica Cose inutili Minghi Macello se ne trovano Ovviamente io non ho trovato niente di buono Però sono un macello di cose Di cose Di cose Di cose E allora, Meyer Quindi, conserviamo Scartiamo 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 Il primo pacchetto è andato Male perché 35k Non me li rifò Quindi, andiamo ad aprire questo Via Via Veloce Dai Dai, questo è buono Schiacciamo subito Salta 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 No Salta Salta Sì Bella R Beh, pacchetto Non male Minghi Però, al posto Fanno i trovare Quanti sono 5 3 Quanti sono 5 contratti oro Rari 1 2 stemmi Un altro stemma Una divisa Non potete farmi trovare I giocatori oro Rari Quindi, questi Non sono andati affatto Bene, ragazzi Come vedete Questa è la mia fortuna Ma, proprio È una cosa Tremenda, ragazzi Cioè Se voi mi state seguendo Su secondo canale Ricordo, si chiama Axelv2 Con il pack of the day Lì vedete veramente È una cosa È una cosa orribile Ah, ci sono questi pacchetti Oro Maxi Minghi Eh, apriamo questi Allora Dopo questo ne avrò Un altro Anzi, no Boom Divarami Perché è più alta Delle altre Sta carta Perché Ah, non abbiamo Entrato ancora niente Che minghi Se l'è bella Ah, comunque ragazzi Ho avuto l'occasione Per dirvi Che la mia maglietta Gialla Si chiama È la maglietta Del Al Nasr E invece Quella Fuori casa È del Seattle Dato che molti Me l'hanno chiesto Però io Renderei attivo Questa Al posto di quella Di Seattle Trank Allora Mi si è impallato No Quindi Non abbiamo trovato niente Madonna che è schifo Jones Oh my god Abbiamo 24.000 Crediti Sto pensando Se aprirne 3 da 7.000 O 1 da 15 Ovviamente 3 da 7.000 Allora Lionel Messi No, no, no Vogliamo Arturo Perché quando Dobbiamo trovare qualcosa No Quando il gioco si fa duro Trova qualcosa Nei pacchetti Ci pensa Arturo Oppure quando il gioco si fa duro Entra Ibarbo Dai Arturo Questa È carico È carichissimo Carichissimo Dai Arturo Ah Arturo Dai Dai E ovviamente Suona il telefono Dai Abbiati Pepe Sale Con l'acqua Mille rapinto Abbiati Pepe Madonna che coppia E basta Va Va bene Oh ragazzi Rispetto al solito Questi sono grandi Pacchetti per me Quindi sono anche Abbastanza felice Mi apri gli ultimi Due pacchetti Ma ho detto Una minchiata Perché posso Ancora Aprire uno Da 15.000 E la cosa Mi attizia Ma no Ma vi pare Via Apriamone due Da 7.500 Ovviamente Quindi come Buttare via 100.000 crediti In poco tempo Oltre a sfidarmi Io perdo i crediti Oltre a sfidarvi Ad aprire i pacchetti Schiacciamo salta Minchie Mi si è corrotto Le cu- Ah no Wow Cree abbiamo trovato Johnny 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 Cree No Cree Eeeh Madone che schifo Carlos Eduardo Cioè lui ogni anno Ogni FIFA Cambia pettinatura Mamma mia Ma infatti per me L'anno scorso Aveva messo una foto Che non era la sua Dai è troppo diverso Però dettagli Ultimo pacchetto Dai Qualcosa nell'ultimo Ma perché Io volevo aprire quello Perché schiaccio Poi ragazzi Volevo chiedere Cosa mi consigliavate Tra Xbox One E PS4 Perché io volevo Comprarmi Ghost Ieri Però Non sapendo su che console Che No Non sapendo che console Io prenderò Non l'ho potuto prendere Perché se lo Se l'avessi preso Per la Play 4 Per Ma che minchia sto a dire Perché se l'avessi preso Per la Per l'Xbox 360 La E in un futuro Avrei preso Invece La E La Play 4 Avrei dovuto spendere Altri 70 euro Invece Se in un futuro Avrei preso E La Xbox One Avrei speso Solo 5 euro in più Però non sapendo Cosa prendere in futuro Non ho preso il gioco Quindi è una cosa Abbastanza ambigua Quindi ragazzi Scrivetemi voi Cosa Avrete Cosa avete Intenzione di comprare E poi io vedrò Io ragazzi Allora In un botto di gente Cioè un maziano di gente Mi dice Penderla Play 4 E su quello ci siamo Ma io ho provato L'Xbox One E ragazzi Mi Mi ha Mi ha Piazzato Mi piazza E quindi Si vedrà Quindi ragazzi Ultimo pacchetto di oggi Vidal Dai Giampamelo Madonna mia Questa è il mio pack medio Ragazzi Solitamente io trovo sempre Oger sarà tipo la quinta volta Che lo trovo Però È illimitato È baggato Vabbè ragazzi Allora per il pack opening Di oggi è tutto Mi riscuso per la voce Che la sento anche io Abbastanza ambigua Diversa da solito E vi ricordo Di passare via con il stash Che sta facendo Un ottimo prezzo Per i crediti Ovviamente Ora Proprio si afferma Il sito più economico Ci mette veramente poco da A mandarvi A spedire Questi crediti Il link del dottore Lo trovate in descrizione Se avete problemi Vi ricordo di contattare Direttamente l'amministratore Schiacciando sul rettangolo In baso destra Poi vi volevo chiedere Di Commentare Scrivendo Appunto Se volevate Se vorreste La facecam Ma anche in questi Pack opening E basta ragazzi Poi forse Mi è venuta l'idea Che magari In un futuro Sfiderò In un pink pale L'iscritto più attivo Comunque questo Si vedrà Quindi ragazzi Allora detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio Per essere arrivati fin qua E quindi detto questo Io vi risaluto E vi dico potente Pala ci sento Al prossimo video Bolla